Siete entrati in questo circuito e avete comprato? Abbiamo comprato delle bottiglie che ci sono servite chiaramente per l'imbottigliamento del nostro brand. Senza pagare? Senza pagare, sì sì, è stato questo l'interscambio, proprio senza dover pagare nulla. E invece avete venduto vino? Vino, sì sì, abbiamo comunque dato il nostro vino. Senza danaro ma con una moneta complementare. L'idea di BXB, Business Exchange Business, imprenditori che si scambiano beni e servizi, è nata nel 2001 in Italia e due anni fa in Puglia. Ma la crisi che crea problemi di liquidità delle aziende ha fatto crescere questo business del più 9% in un anno. Si basa sullo scambio in compensazione multilaterale. E quindi cos'è alla fine? È la possibilità per delle aziende di poter scambiare i loro prodotti e servizi avvalendosi appunto del principio secondo il quale non è necessariamente detto che debba esserci uno scambio bilaterale tra le due aziende ma c'è una stanza di compensazione che compensa appunto le necessità di ciascuno. Oltre 2 milioni di euro di scambi rigorosamente senza denaro. Dopo 14 anni di esperienza ormai possiamo contare su 3.000 aziende in tutta Italia che utilizzano sistematicamente questo strumento per fare business. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, un riscontro positivo perché abbiamo acquistato diversi clienti fuori regione oltre che in Puglia e in settori dove abitualmente noi non siamo specializzati. Quindi il vantaggio è stato notevole.